Ciao Ma sono stati buoni, ma anzi per tutta la serata e alla fine si sono scatenati Sì, gliel'ho detto io, ci bisogna Riusciamo a far scatenare anche un po' il pubblico? Cioè che ne so Possiamo fare parlare il pubblico? No, ci riusciamo Trasformiamo la mega discoteca qui da Piazza San Pietro Senti, come stai? Ci sembrate, ballate praticamente come me quando vado in discoteca Cioè che sto seduto Tu sei uno di quei che sto seduto tutta la serata? Sì, infatti non ci vado mai Senti Valerio, intanto complimenti per questa nuova avventura televisiva Poc'anzi dicevo, questa avventura televisiva su Rai 4 Che ti viene protagonista Com'è il conduttore televisivo? Ah, carino No, è un'esperienza nuova Quindi è tutto da vedere All'inizio mi sembra abbastanza scorrevole e fattibile Poi bisogna vedere a lungo andare Ma andrei bene Senti, sono curioso perché so che giovedì scorso È uscito il tuo nuovo libro Giuro di dire la verità Dalla... L'hai letto? Zia Mary, no? Però volevo capire un po' il contenuto di questo libro Tranquillo perché non è uscito Ah, non è ancora uscito? No, no, ancora... Però vi abbiamo dato una notizia No, infatti, no, no, no No, non è uscito Uscirà a breve, non diciamo ancora quando Perché dobbiamo ancora definire alcune cose Però è stato scritto Sono state fatte le foto È già tutto pronto da diversi mesi Che dici in questo libro? È che dico, se te lo dico che... Qualcun piccolo anticipo del libro Ma io direi che quando uscirà la copertina E poi, insomma, si potrà vedere la copertina Non ci sarà bisogno di dire niente Capiremo tutto Sì, soprattutto la parte finale Giuro di dire la verità Dalla... Alla zia Mary Chissà è questa zia Mary, eh? Ma chissà Vabbè, zia Maria Tu abbiamo una zia che si chiama Maria Qualcun in Sicilia che non ha una zia che si chiama Maria Tutti Senti, ricordiamo anche l'appuntamento Del 16 dicembre All'auditorium Parco della musica Del concerto di Natale Perché manca poco A te sembra che manca tanto Ma siamo quasi alla fine di settembre Passano a Natale Mancano quanti? Tre mesi? È un po' Vabbè, siamo velocissimi 91 91 C'è addirittura lenti di ricordi 91 giorni 90 È mezzanotte È mezzanotte 90 Senti, che ci canti adesso? Niente, vado via No, ma come vai via? Mica puoi andare via così No Faccio Insomma, vi saluto col primo mio Inedito del mio primo disco Sentimento Valerio Saluto del mio primo disco Saluto del mio primo disco